Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, It's a Prima Not 7, sono sempre io e questo è il mio secondo video su OrtoCurse Network Ebbene sì, questa volta siamo su Scroll Beauty Black Ops 2 perché sono un monotono, proprio monotono livello 200 E ora sto andando pure a scatti, come stavolta siamo su PC, non come l'ultima volta che ero su Mv3 Ho deciso di fare un altro video perché, perché ho visto che il primo video ha fatto molto successo e la cosa mi ha fatto davvero piacere Ho deciso di farne un altro perché, sì, come vedete anche con l'aggiunta della webcam Perché a volte, quando voglio, sono espressivo, lo ammetto e faccio delle facce incredibili e boom Eh, c'è il boss, no, no Non devo iniziare a sclerare perché, sapete com'è? È un po' una malattia Che cazzo Eh, finita, ma c'è un fuck, ma mamma Cosa fa questo? Non si è neanche accorto, povero stolto Sì, questa volta sono su PC, mi sto... passando al PC Gaming perché fa molto potente E piano piano diventano potentissimo e conquisterò tutto il mondo Ok, intanto spero che stai distando perché non voglio usare l'audio della videocamera Ebbene, sì, ho dovuto farlo alcune volte in caso di emergenza si fa, insomma Come vedete non va benissimo, anzi, va a 30 fps Ma quando non agisto di solito vado a 60 Ma va bene anche a 30, chi se ne frega, chi se ne frega, tanto, tanto, chi se ne frega Questa volta siamo su un dead metal a squadre Perché non ho tempo Da fa più... l'uomo lo ucciso tantissimo e anche a distanza questa cosa non è da sottovalutare comunque ora un secondo che può oppure che è in tante in tante in tante in tante un po' 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 m sei rimasto un suo per evitare mi so che quando c'è il tutto se guardate questo video dovete abituarti a guardarlo soltamente tutto perchè io inizio il discorso e poi ne faccio un altro se avete già visto il mio primo video avete notato anche lì è così allora vediamo se riesco a fottere questo bellissimo cecchino che sta camperando e invece no è già morto sì ora proverò a usare il cecchino ma non sono capace lo ammetto c'è proprio per nulla non pensate uno dice non lo so usare poi magari fai quick e invece no faccio pena io ora sto camperando si sentite che belli i rumori della tastiera perché sì perché ho soltanto il mouse da gaming e la tastiera è una cacatina dalla packer bell puzzante puzzante nuovo termine attenzione non lo trovo il cecchino voleva prenderlo per fare qualche strana acrobazia stupida e fare un po' il gioppino e invece non lo faccio e ora cerchiamo i nemici nuova sfida alla ricerca dei nemici ok attenzione la granata ha fatto e non ha ucciso nessuno sì nei miei video come avete già capito dico troppe strozzate forse dovevo smetterla no non ne vedo non smetterò perché è divertentissimo e e quello nemico che l'ho ucciso con quest'arma sconosciuta dai meandi delle persone sconosciute e intanto sto facendo positivo OMG OMG con 140 di ping sì non pensate che il mio ping scenda sotto i 100 il mio ping è così voi direte OMG OMG come farei a giocare non lo so però sicuramente su xbox ma molto peggio quindi direi che è molto meglio su pc perché il pc è potente con i suoi server ok tanto magari parlo talmente basso che manco si capisce quello che dico attenzione ho visto c'è chi no la vista la spada assist c'è come cazzo ho fatto a fare assist quello l'ho detto mille di volte che non voglio fare assist mentre gioca a black ops tanto voi magari siete cliccando oh guarda te i piromani sto giocando su pc magari c'è anche le mappe invece no non c'è proprio un cazzo qua su pc è già bello che tu gioco ah 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 ok c'ho solo il gioco simile se il box o il passagionale quindi dio si è come se ti c'è un mg mg quanti soldi speso per questo cazzo di gioco troppi già risposto perché non è che è brutto ne zombie lo amo sicuramente anche la nuova mappa che lo vedete che c'è già fatto un video si è vero oggi c'è fatto un video precisamente oggi c'è già fatto un video ma sono zombie insomma molti player non mi piace ok mi ci diverto come sto facendo questo perché sto andando a casa contro le rocce anche per fare video mi ci diverto però sul mio canale non li faccio quasi mai perché non mi diverti cioè mi diverte a giocarci come ho già detto non pensate che sono pazzo mi diverte a giocarci però non sono anch'io però non mi piace insomma troppa gente lo fa è triste è triste però mi diverto comunque a giocarci quando voglio quando sclero ovviamente no intanto ho chiamato un drone di ricognizione grazie alla mia pistolina e ora morirò eh 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 c'è un nemico qui c'è un nemico facciamo così intanto è sparita l'arma e io non l'ho presa intanto vado tra l'interfps prendiamola dai almeno c'è qualcosa cioè no cazzo 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 la cosa brutta è che su pc non puoi sclerare cioè adesso io ho sclerato se ero su xbox avrei potuto prendere il mio malettino che ho tranquillamente tutti i giorni quando gioco in mano prendere e sbatterlo contro il tavolo la stivania cioè non so se capite però poi invece il mouse cioè è la cosa a cui tengo di più toglie che vedo se mi piace un casino nel saluto un po' non gioco più a nulla quindi cioè invece i cazzo di xbox sono indistruttibili tu li puoi usare anche come martello infatti stavo appunto per aprire un nuovo rigozio di martelli dell'xbox vedo che guida bene e in pratica è semplicemente un pezzettino di legno attaccato sulla punta o un joystick dell'xbox potrezzato tranquillamente come martello alla modica cifra di 80 euro se si rompe sti cazzi ok quindi avete capito no? mi sembra l'ottima cosa comunque perché dalla loro forma si possono utilizzare in modo decente quindi non picchiatevi usateli come martelli piuttosto allora dopo questa carriera di stronzate di pubblicità e martelli dell'xbox cerchiamo di riuscire a non fare negativo cosa che mi viene molto bene invece no sono ancora a rate di 1.50 quindi accettabile giusto ditemi di sì non fate cattivi ok dai ora in modo silenzioso spero che questo microfono mi registri anche anche quelle bocine stupide che ho appena fatto tipo tante tante ok non vede nessuno in vista però lì in alleata è morto quindi ci sarà un nemico in vista ma non è ancora arrivato quindi io faccio un giro perché c'è uno strozzo qui addirittura non c'è due ragazzi mi ha uccisi non è vero non c'è uno svegliato comunque non c'è uno per me è una cosa incredibile perché devo ammettere che sul pc faccio pena col cecchino cosa che sull'xbox non è così lo ammetto sull'xbox cacazzo questo coso coso un coso un rainbow multicolo di cecchino faccio pena dai però va bene quel ragazzo avrà capito che è forse chissime potenza incredibile limitate trento matto quanto sono bravo saberbombus 4 mi so anche il soffitto, peccato pure qualcuno se mi senti conto che io volevo lanciare la bomba ok ehi 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 bomba cioè io volevo lanciare se lanciare una grata così a cross the map e ho un mirato se non è una cosa leggera e facile da fare quanto è solo un tolgo si sto ancora mi sto andando insomma sto cercando di imparare a giocare sul pc perché è una cosa fighissima andare in giro c'è anche un portatile con cui potrei giocare benissimo in giro col pc cioè benissimo non è il massimo insomma vado ai miei 30 frame però c'è un punto in black ops ho provato a fare zombie io multiplayer no perché mi spiega troppo ho provato a fare zombie con questo portatile che è di 6 anni fa pensate un po' però era uno di quelli cioè al tempo era al top a 4 giga di rama una scheda video buona della invita non mi ricordo manco cosa una cagatina così così e c'ha 140 giga di radisca cioè un po' vecchissimo e comunque con questo pc qua sicuramente gioco a black ops zombie va un po' a scarti e poi c'è un punto appunto stavo dicendo della scala in cui c'è quel punto lì in cui in quel punto lì vado a 60 fps non so se avete presente la mappa città di zombie c'è il punto della scala per salire al secondo piano lì vado a 60 fps non me ne fregherà nulla ma io ve l'ho appena raccontato e voi se state guardando ancora questo video mi avete ascoltato e ora la partita è finita e quindi voi mi avete ascoltato e ora la partita è finita quindi questo video ho capito 9 minuti almeno così vedo da sarà poco cosa di meno ok intanto scusa con l'iscrizione blu pap pap mamma 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 fucca non si scrive così eh rai 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 fa più non ce l'ho fatta neanche scrive quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto chiedetemi sempre nei commenti ogni tanto di controllo chiedetemi sempre nei commenti se volete altri video su Call of Duty se volete altri video su qualcos'altro non lo so ditemelo voi se volete vi ringerai comunque queste cuffie non funzionano con il microfono eh è solo per scena ehm se volete altri video su Black Ops se volete qualche cosa altro devo ammettere che piace moltissimo Halo sulla mia bella xbox che è qui appunto se vi piace Halo qualcosa suggerite nei commenti ogni tanto li leggo passate ovviamente al mio canale a fare un giro tanto faccio qualche video qualche caccatina no non è vero mi ci metto tutto il mio stesso per fare i più video e purtroppo negli ultimi tempi non ho molto tempo per fare i video infatti questo video ora devo andare via quindi intanto ho già perso altri due minuti a parlare in chiacchiere quindi ragazzi appunto passate al mio canale ovviamente iscrivetevi a Ortogoose Network che intanto usciamo andrà partita è un network che mi piace sicuramente più di Meragodo di Jinba Network Jinba Network che è una fregatura me la godo su quei quattro video lì di quelle due o tre persone che fa ridere gli altri non li seguo quindi comunque sto dilongando troppo il discorso passate al mio canale e iscrivetevi a Ortogoose Network ma non lo so se non giresi i miei video magari qualcuno vi piace di Minecraft cose di tutti i giorni no non è vero qualcosa c'è di origine qualcosa qualche panino sì vabbè lasciamo basta leggiate un bel mi piace a questo video commentate appunto quello che ho detto e sto ripetendo le cose 500 volte quindi nulla ciao a tutti